Al via il vertice dei ministri degli esteri della Nato, sul tavolo il grande dilemma delle restrizioni imposte all'Ucraina sull'utilizzo delle armi. Via libera alla legge di amnistia per i separatisti catalani, attesa la firma del monarca per l'entrata in vigore. Discriminazione e razzismo, la sinistra e i socialisti spingono per l'adozione della direttiva europea, attualmente bloccata dal Consiglio. Inizia oggi la riunione informale dei ministri degli esteri della Nato a Praga. Tema scottante dell'incontro di due giorni è la revoca delle restrizioni imposte a Kiev che finora non avevano permesso di utilizzare le armi dell'Alleanza Atlantica per colpire gli avversari in territorio russo. Finora l'Occidente si era astenuto dal concedere l'autorizzazione per timore di un'escalation del conflitto in una guerra più ampia con la Russia. L'Ukraine può ancora prevale, ma solo con il continuo di supporto robusto dagli alliei NATO. Quindi al summit di NATO in giulio abbiamo planito di mettere il nostro supporto su un'escalation più ampia con un grande ruolo nato in coordinare l'assistenza di sicurezza e l'entrata, Durante il vertice si discuterà anche di chi dovrà prendere il posto di segretario generale ad ottobre dopo le dimissioni di Stoltenberg. L'esercito israeliano avanza su Rafa strada per strada, mentre l'artiglieria colpisce le zone occidentali e centrali della città. Ci sono stati altri attacchi e altre vittime nei campi profughi della zona. Un milione di palestinesi ha già lasciato Rafa, altri stanno sfollando in queste ore. L'Israel ha dichiarato intanto di avere preso il pieno controllo del corridoio Filadelfi, il confine di 14 km tra la striscia di Gaza e l'Egitto. Secondo un portavoce sono state individuate 20 gallerie sotterranee usate da Hamas per rifornirsi di armi. L'ONU ha denunciato che gli aiuti umanitari dal valico di Rafa si sono ridotti del 70%. Mercoledì una nuova protesta a Tel Aviv ha chiesto la fine della guerra tra Israele e Hamas. Questa volta è stato il gruppo Madri dei Soldati a dipingersi viso e mani di rosso sangue. Il governo israeliano però ha ignorato le richieste di terminare la guerra avanzate spesso dai familiari degli ostaggi e la settimana scorsa dalla Corte Internazionale di Giustizia. Approvata giovedì 30 maggio in via definitiva dal Congresso spagnolo la legge di amnistia per gli implicati nel processo secessionista in Catalogna dal novembre 2011 a novembre 2023. Il provvedimento, che revoca il veto apposto dal Senato, ha ricevuto 177 voti a favore della maggioranza progressista del Partito Socialista spagnolo e da suoi alleati. La controversa normativa apre la strada a ritorno in Spagna dell'ex presidente Charles Pujemont all'estero dall'ottobre del 2017. A causa dell'assenza del re, nel fine settimana Felipe VI parteciperà all'insediamento del presidente eletto della Repubblica di El Salvador, la legge non verrà pubblicata subito in gazzetta ufficiale, attesa quindi la firma del monarca. 172 i voti contrari, tra questi il partito di estrema destra, Vox. La controversa legge ha dominato il dibattito politico in Spagna degli ultimi tempi. L'Unione Europea deve attuare un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, ma questa legislazione potrebbe contribuire a un aumento dei discorsi di odio e degli atti di discriminazione. Questo è uno degli argomenti a favore di una rapida adozione della direttiva europea contro la discriminazione durante la prossima legislatura, ha dichiarato la relatrice a Euronews. We know for a fact that black people within the EU, but also LGBTI persons and persons with a Roma background are some of them that face discrimination in their everyday life. And the tragic is that this is not a down-going trend, it's a rising trend. I am afraid that the migration pact and several parts of it will not help us in fighting racism and discrimination, rather the opposite. Nel 2008 la Commissione Europea ha tentato per la prima volta di creare una legge completa sulla lotta a tutti i tipi di discriminazione, al di là delle regole esistenti per il mercato del lavoro. I cittadini spesso si trovano a dover affrontare sfide per l'acquisto di una casa, per l'iscrizione a una scuola specifica o per l'ingresso in un luogo di svago, per esempio a causa del colore della loro pelle, del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso. Allora cosa dicono i manifesti elettorali dei sette partiti politici del Parlamento europeo? Solo i socialisti e la sinistra promettono chiaramente di spingere per l'adozione della direttiva. Gli altri tre gruppi più moderati fanno riferimento alla necessità di lottare contro tutte le forme di discriminazione, razzismo ed esclusione. La rete europea contro il razzismo ha elaborato una serie di punti per combattere il problema e ha chiesto ai candidati di firmare il testo. Chiede inoltre di prolungare il piano d'azione dell'Unione contro il razzismo oltre il 2025 e di rivedere l'attuale testo della direttiva che è bloccato. Il Consiglio dell'Unione Europea L'Unione Europea che riunisce i 27 stati membri ha bloccato la direttiva con alcuni governi che sostengono che viola le competenze nazionali e che sarebbe troppo costosa da attuare. Ma il relatore afferma che l'attuale panorama politico con l'ascesa dell'estrema destra ne renda urgente la necessità. Una serie di scandali e accuse di spionaggio stanno mettendo a dura prova la campagna elettorale del partito tedesco AFD per le elezioni europee in programma dal 6 al 9 giugno. L'accusa più grave riguarda il principale candidato del partito ed eurodeputato Maximilian Krah. Dimessosi con effetto immediato a maggio come membro del Comitato Esecutivo Federale dopo che alcune sue dichiarazioni hanno irritato gli alleati alle elezioni europee. Secondo Krah, coloro che hanno indossato la divisa delle SS naziste durante la Seconda Guerra Mondiale non sono automaticamente criminali. Dopo le dichiarazioni, l'AFD è stata inoltre espulsa dal gruppo europeo di estrema destra, identità e democrazia. Secondo gli analisti politici, i recenti scandali hanno rovinato l'immagine dell'AFD in Germania. Anche il numero due del partito è indagato. per le accuse secondo cui potrebbe aver ricevuto denaro da una rete filorussa. Nonostante gli elettori di AFD non si lasceranno probabilmente influenzare dalle recenti notizie, gli scandali potrebbero allontanarne alcuni di destra e quelli ancora indecisi. L'estrema destra sta crescendo in tutta Europa e ha le carte per scombinare gli equilibri politici anche alle prossime elezioni europee. Perché? Chi la vota? E con quali possibili conseguenze? Ne parliamo su Euronews Witness. E con quali possibili. E con quali possibili. E con quali possibili. In questa scelta che ne sono nelle nuove tre, hanno bisogno di più poter risultati, hanno bisogno di meno competenze in Brasal, ma ho bisogno di una approcciata comuni quando è di consentimento di trade, quando è di consentimento di costruzione, quando è di consentimento di guadalioni di politica, di condivine sull'una estrae. Grazie a tutti. Grazie a tutti.